Lasciamo la parola all'assessore Piani, prego. Sì, grazie Presidente. Colleghi, adesso arriveranno queste magliette anche a voi perché come ogni anno poi faremo la consueta foto tutti in arancione, quindi ci tenevo che anche quest'anno avesse le nuove magliette. Io sarò molto rapida ma, come ha detto il Presidente Brianza, stiamo per avvicinarci alla giornata del 25 di novembre, quindi come ogni anno mi sembrava giusto portarvi all'attenzione un'informativa di quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in tutti questi anni e quelli che saranno poi i prossimi obiettivi. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per questa opportunità nell'auspicio che il mio breve intervento possa riassumere al meglio l'importanza del lavoro svolto in questi anni, in tema di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne. Sarà inoltre un'occasione, come appunto vi dicevo, per condividere con voi le prossime iniziative e i prossimi obiettivi proprio in avvicinamento all'importante ricorrenza del 25 novembre. Oggi ci rapportiamo con un sistema, come sapete, di reti territoriali efficaci e strutturate, un sistema che copre l'intero territorio regionale, offrendo servizi di assoluta eccellenza. E questo è un importante risultato e anche conseguenze dell'impegno di chi mi ha preceduta, del lavoro congiunto di maggioranze ed opposizioni che si sono susseguite negli anni, in pieno spirito collaborativo della sinergia tra i diversi livelli istituzionali. Della sinergia tra i diversi livelli istituzionali e tra le categorie professionali coinvolte a vario titolo, fino alla straordinaria e profonda dedizione delle tantissime operatrici che rappresentano in fulcro dell'azione di contrasto alla violenza sulle donne in questo territorio. L'impegno dell'istituzione che insieme rappresentiamo è stato costante e parte dall'ormai lontano 2013, con una scarsissima conoscenza dei servizi presenti sul territorio. Non avevamo dati né una governance, ci siamo scontrati con l'evidente difficoltà di comprendere un fenomeno spesso sminuito, spesso trattato in modo riduttivo, spesso celato come qualcosa che non si vuole né vedere né affrontare. Un primo censimento ci ha consentito di apprendere della scarsissima copertura territoriale dei servizi, inferiore al 40%, per arrivare ad oggi a 27 reti antiviolenza, di cui fanno parte tutti i comuni lombardi. In sei anni il numero dei centri è passato da 21 a 51, anche grazie alle risorse regionali e nazionali stanziate. È stata messa in campo una strategia de governance, volta a promuovere la costituzione di network locali coordinati da un ente locale capofila. La rete rappresenta il luogo dove i soggetti che entrano in contatto con le donne vittime di violenza cooperano per garantire accoglienza e protezione e sono direttamente impegnate nel favorire l'emersione del fenomeno anche attraverso iniziativi di sensibilizzazione. In sei anni la Regione Lombardia ha impegnato un totale di circa 6 milioni di euro a favore delle reti, a cui si aggiungono 600 mila euro per i progetti di formazione. Nell'ultimo biennio sono stati erogati oltre 760 mila euro per interventi a sostegno dell'autonomia abitativa e del reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. A partire dal 2014 sono state avviate e realizzate numerose iniziative di formazione rivolte al personale sanitario, alle forze dell'ordine, agli avvocati, anche grazie a protocolli di intesa stipulati con gli ordini professionali e gli uffici territoriali del Governo. Un investimento importante, specificatamente destinato alle figure professionali con cui le donne vittime di violenza si pongono in relazione. Ad oggi i corsi hanno raggiunto circa 700 avvocati, più di 1500 tra assistenti sociali, medici e operatori delle reti territoriali, più di 300 agenti delle forze dell'ordine e solo nel 2018 sono stati formati 120 rappresentanti della polizia locale, mentre nel 2019 circa 190 medici di medicina generale. Negli ultimi due anni, inoltre, abbiamo finanziato due programmi finalizzati ad inserire nei corsi di laurea momenti di approfondimento curricolare rispetto alle tematiche afferenti alla violenza contro le donne. A settembre di quest'anno siamo riusciti a siglare una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per realizzare la linea di intervento a scuola contro la violenza sulle donne, da attuarsi nel bienio scolastico 19-20-20-21, al fine di promuovere progetti per favorire lo sviluppo e il consolidamento della cultura di parità, dell'importanza del rispetto della donna e di prevenzione della violenza, con interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale docente, agli studenti e anche ai genitori. Tantissimo lo svolto che ha favorito l'immersione del fenomeno, nella consapevolezza che il percorso sia ancora lungo. Recenti rilevazioni Istat evidenziano che in Lombardia, in analogia con il quadro nazionale, oltre il 30% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza. Secondo i dati dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza, ora, nel corso del 2018 i centri hanno attivato oltre 17.000 prestazioni, con 6.500 contatti. Le forme di violenza registrate sono multiple e hanno riguardato soprattutto la violenza psicologica nell'87% delle donne, quella fisica nel 73, quella economica nel 32, lo stalking nel 29 e infine la violenza sessuale per il 13%. Il maltrattante nel 57% dei casi è il partner attuale e nel 18% dei casi un ex partner. E vorrei soffermarmi molto brevemente su alcune caratteristiche delle donne che hanno usufruito dei servizi. Oltre il 60% è di nazionalità italiana, il 31% ha meno di 34 anni, il 33% ha l'età compresa tra i 35 e i 44 anni, mentre il 36% ha più di 45 anni. Un dato importante è questo, il 60% delle donne ha figli minori e oltre il 40% hanno almeno un diploma di scuola media superiore, il 13% hanno una laurea e un titolo post laurea. Ed ecco un dato particolarmente allarmante, oltre il 40% delle donne è privo di un'occupazione. Appare quanto mai evidente quindi la necessità di investire maggiormente su progetti di inserimento lavorativo, poiché l'indipendenza economica rappresenta un elemento imprescindibile per il compiemento del percorso di fuoriuscita del contesto della violenza. I dati e le informazioni che ho appena illustrato hanno rappresentato un'importante base di lavoro. È ormai in scadenza il piano quadriennale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. In questi mesi abbiamo lavorato con impegno per redigere la nuova programmazione in sinergia con tutti gli attori coinvolti. Posso oggi preannunciare con grande soddisfazione che il documento sarà presentato nella prossima giunta, il 26 di novembre. Il piano nasce da un lavoro condiviso con il tavolo permanente che si è rinnovato nella sua composizione con un totale di 78 soggetti coinvolti in rappresentanza del terzo settore, degli enti locali, del sistema sanitario, sociosanitario e giudiziario oltre che delle forze dell'ordine. Il nuovo piano si declina in quattro linee di intervento, prevenzione, protezione e sostegno per seguire e punire, assistenza e promozione governance ampliando quella che è la sfera di intervento a tematiche e target sino ad oggi non trattati o trattati solo marginalmente come le donne vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità i minori vittime di violenza o testimoni di violenza intrafamiliare e gli orfani per femminicidio. Ci saranno tanti elementi di continuità rispetto al passato ma anche tante innovazioni e non vi nascondo rispetto all'importante tema delle modalità di finanziamento delle reti che vorrei superare la logica di progetto per arrivare ad un sistema di accreditamento e di erogazione stabile delle risorse. Il piano dopo l'esame in giunta sarà sottoposto ovviamente alla vostra attenzione nella consapevolezza che ne verranno ulteriormente migliorati i contenuti. E ora avviandomi alla conclusione vorrei accennare ad un'iniziativa che mi sta particolarmente a cuore. Quest'anno abbiamo proposto alle scuole statali e paritarie di secondo grado e a tutti gli istituti di formazione professionale un nuovo bando finalizzato a sostenere progetti di sensibilizzazione sul tema delle prevenzioni del contrasto alla violenza con la produzione di una nuova immagine per la nostra campagna Non sei da sola. I progetti che otterranno il maggior punteggio riceveranno un contributo pari a 5.000 euro da destinare alla realizzazione di un'aula informatica che dovrà essere dedicata ad una donna vittima di violenza. Durante la mattinata del 25 verranno premiate le scuole il cui progetto sarà risultato più meritevole. Parteciperanno a questo momento tantissimi ragazzi che nell'occasione potranno approfondire la tematica grazie ad un confronto con persone del mondo della musica e dello spettacolo un evento importante a cui ovviamente siete tutti invitati che si terrà nell'auditorium testori di Palazzo Lombardia. È la seconda volta ormai che mi presento a voi con una breve informativa sul tema della prevenzione del contrasto alla violenza sulle donne ma dietro a queste poche parole c'è il mio personale impegno quello della mia direzione ma soprattutto ci sono le tante frequenti interlocuzioni avute con voi in questi mesi che hanno arricchito questo percorso di cui sono profondamente orgogliosa. Abbiamo raggiunto insieme risultati ambiziosi al di là delle logiche di contrapposizione che giustamente caratterizzano il dibattito politico ma che su questo tema ci hanno sempre visto lavorare insieme. Posso dire con estremo orgoglio che Regione Lombardia è un modello ma è inutile nascondersi abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare in sei anni abbiamo raggiunto risultati ambiziosi ma questo è purtroppo solo l'inizio perché nessuno di noi potrà mai dirsi davvero soddisfatto fin tanto che ci sarà anche solo una donna che si rivolgerà ad uno dei nostri centri perché questo triste fenomeno rappresenta una piega sociale qualcosa che colpisce tutti qualcosa di cui parlare sempre e comunque non soltanto nella ricorrenza del 25 novembre per superare la vergogna e il senso di fallimento che spesso rappresentano il primo problema un blocco psicologico che costringe a rimanere e a subire perché dobbiamo lavorare affinché ogni ragazza ogni donna possa costruire liberamente il proprio futuro sapendo che verrà sempre e comunque rispettata perché ogni donna ha il diritto di inseguire i propri sogni ha il diritto di uscire dalla spirale di violenza e di iniziare un nuovo percorso di vita nella consapevolezza che ci saranno le istituzioni le associazioni, i professionisti, le forze dell'ordine e un'intera comunità di appartenenza pronte a prenderla per mano grazie grazie all'assessore Piani